Iniziata la partita, c'è la Lazio e segna almeno tre gols Doppietta del mobile, direi con un altro flash E c'è il gol! C'è il gol! Immobile! Ragazzi, non ero rimasto a Perezza Cagni a terra E invece Cinuzzo, zitto zitto 2-0 Lazio No, proprio assiste a Perezza Cagni In caduta ha dato la parla al mobile che l'ha messa dentro Ecco Cagni che taglia a metà il centrocappo Attenzione, area di rigore Attenzione, Basic, Basic, la parla per Vinicovic Vinicovic è immobile, protegge, tiro! Tre! Azione fantastica! 3-0 Doppietta del mobile, ragazzi Più te di ve lo pensano a prima data di vita Grazie a tutti e mi sarebbe Makeshios Si ha andato a passare Il mobile è sottoperto